Un saluto a tutti voi e buona domenica, ben trovati al primo appuntamento con la nostra informazione del mattino. Cominciamo parlando di sanità in una rassegna stampa che non ha i giornali per via del Ferragosto. Allora cominciamo dalla sanità, dicevamo parlando del Santimoteo e di un reparto di eccellenza, nonostante il periodo dei tagli in questo settore, non mancano strutture che accolgono pazienti che arrivano anche da fuori regione. Il caso di cardiologia al Santimoteo diretto da Emilio Musacchio, il primario, ha fatto il punto sugli interventi e sulle ultime novità per le tecniche che riguardano questo particolare reparto. Sentiamo Fabrizio Occhio Nero. Il reparto di cardiologia dell'ospedale Santimoteo di Termoli si conferma un punto di riferimento sul territorio e sono numerosi anche i pazienti che arrivano da fuori regione e si affidano alla professionalità del personale sanitario. Il responsabile dell'unità operativa, il professore Emilio Musacchio, ha fatto il punto sulle attività, soffermandosi sulle varie specializzazioni e sulle iniziative in cantiere. Un impegno costante per migliorare i servizi offerti, nonostante i tagli che interessano la sanità regionale e le difficoltà incontrate per garantire gli standard qualitativi. Questo è un fatto che ci fa molto onore, comunque noi non abbiamo neanche il tempo di pensare se siamo considerati o meno. Noi lavoriamo eccessivamente, abbiamo un flusso di pazienti che vengono da tutta la regione e anche da fuori regione e questo ci favorisce da un lato, ci preoccupa dall'altro perché avremo bisogno di più risorse. Ma sicuramente l'ASL è sensibile alle nostre grida. E sono in corso anche le procedure per offrire nuovi servizi e migliorare le prestazioni, rinnovando poi l'impegno per coordinare gli interventi in periodi in cui si acutizzano le patologie, come l'estate. Le procedure che noi pratichiamo per le malattie acute cardiologiche, il trattamento dell'infarto miocardico acuto mediante l'angioplastica primaria e poi la terapia dello scompenso cardiaco acuto, visto che gli scompensati oggi in Italia dalla prima a quarta classe di gravità si aggirano sui 10 milioni e quindi nella fase finale vengono in fase acuta. Parliamo ora di volontariato perché a settembre ci sarà l'unificazione dei centri di servizio in Molise e il trasferimento delle funzioni su base regionale. Ce ne parla Tonino Danese. Dal 1 settembre sarà operativo un nuovo e unico centro di servizio per il volontariato del Molise. Lo ha deciso il comitato di gestione del fondo speciale presso la regione con i tre centri di Campobasso, Isernia e Larino, con CSVnet e con la consulta nazionale dei fondi di gestione. In sostanza a Cesvo, Cesvip e il Melograno, i tre centri che per 20 anni hanno supportato le associazioni di volontariato, confluiranno nella nuova organizzazione con sede giuridica a Campobasso e ramificazioni operative per erogare i servizi nel capoluogo a Isernia e Larino. Competenze estese a tutta la regione, iscrizione all'Albo come unico CSV, costituito da un'associazione di associazioni di secondo livello denominata 3. Obiettivo è coinvolgere le varie organizzazioni del settore con il loro ingresso nella base sociale, dare funzionalità e articolazione sul territorio per garantire punti di servizio e vicinanza alle stesse organizzazioni. Il centro sarà impostato per organizzazione e attività in modo da consentire massima efficienza ed economicità nella gestione delle funzioni per offrire risposte efficaci e uniformi ai bisogni del volontariato regionale, e così da metterlo nelle condizioni di essere appieno uno degli elementi di crescita sociale e culturale della regione. E parlare di volontariato e operare concretamente sul campo oggi ha un grande valore. Dunque a settembre la presentazione ufficiale del CSV. Ci sono dubbi sulla autenticità della tavola osca che è esposta al British Museum di Londra. Secondo alcune tesi, infatti, quella vera sarebbe proprio quella esposta in questi giorni ad Agnone. Sentiamo perché in questo servizio di Sergio Di Vincenzo. Da qualche giorno ad Agnone sta suscitando interesse quella che ha tutta l'aria di essere la tavola osca, il prezioso reperto individuato nel territorio di Capracotta che ha permesso agli studiosi di ricavare informazioni importanti sui sanniti. Esposta a Palazzo Bonanni, nel centro storico, sta destando molta curiosità perché chi mastica un minimo di storia locale sa benissimo che non dovrebbe trovarsi lì, bensì al British Museum. È stata forse data in prestito dal Museo Londinese oppure è solo una copia? Non si sa. Qualcuno ha ipotizzato che in realtà sia questa l'originale. Non a caso il CNR ha già dato il via a una serie di accertamenti. È vera o è un falso dell'Ottocento? Questo è l'enigma che il CNR sta risolvendo, speriamo che entro un anno risolva, attraverso almeno quattro esami diversi. Quindi non sta a me dire se la tavola Donofrio a Micarelli sia originale, sia osca, sia quindi sannita del II o III secolo a.C. o è dell'Ottocento. Certo, a questo punto siamo ad un 50% di possibilità. Quindi questo mette in forte dubbio l'autenticità della tavola che sta al British. Ma come nasce questo enigma? Perché ci sono dei dubbi? Per capirlo bisogna tornare indietro nel tempo, quando cioè la tavola osca fu acquistata per essere poco dopo rivenduta. Tutto l'enigma parte dall'ora fuagnonese Vincenzo Paolo Donofrio. Ora, lui una volta acquistata a Capracotta la tavola osca trovata a Fonte del Romito, ne fece una copia, lo sappiamo, da suo figlio Tito. Ha venduto al Castellani di Roma nel 1863 la vera o la falsa? Quella di Roma poi è finita al British dieci anni dopo quasi. E l'altra, l'esemplare che ora abbiamo recuperato e abbiamo avuto in prestito dalla famiglia Micarelli, è finito agli eredi, per l'appunto, di Vincenzo Paolo Donofrio che la detengono almeno da 160 anni. Nel dubbio e in attesa del verdetto del CNR, tanto vale la pena fare un salto ad Agnone e farsi una propria idea. La tavola osca, vera o falsa che sia, resterà esposta a Palazzo Bonanni fino al 31 agosto del 2016. E apriamo la pagina delle manifestazioni dell'estate, cominciando da Bagnoli del Trigno. In programma dopo domani la manifestazione Frammenti d'Antico. La passeggiata storica Caspar Capparoni sarà il duca, mentre la duchessa sarà interpretata da Sara Affi-Fella, a Mismolise 2014, nel servizio di Giuseppe Carriera, le anticipazioni dell'evento. A impersonale il duca, nella edizione 2015 di Frammenti d'Antico, martedì 18 agosto, sarà come da tradizione ormai un bellissimo della tv. E l'attore romano Caspar Capparoni, conosciuto dal grande pubblico per le sue interpretazioni in serie televisive e di grande successo, e per una carriera ricca di affermazioni professionali, cominciata all'età di 18 anni in teatro, grazie a Giuseppe Patroni-Griffi, con il quale ha lavorato per 20 anni. Capparoni è stato protagonista anche in diverse serie fiction televisive, come Ricominciare, Incantesimo, Elisa di Rivombrosa, Capri, Rex, Le Tre Rose di Eva. Proprio nei mesi scorsi Capparoni ha ottenuto un nuovo grande successo, interpretando un personaggio chiave, quello di Giordano Testa, nella fiction Solo per amore di Canale 5. Ad accompagnare Capparoni nel corteo con tutta la corte a Bagnoli del Trigno sarà la bellissima Sara Affifella, Mismolise 2014. Ma ci saranno anche oltre 15 occasioni di spettacolo e coinvolgimento nel percorso di frammenti d'antico 21esima edizione il 18 di agosto. Tra loro musici e sbandieratori di lucera, che accompagneranno anche la sfilata del Duca e della corte a partire dalle 18, raggiungendo così alle 20, in Piazza Olmo, cuore della cosiddetta Terra de Vache, dove si esibiranno lasciando poi spazio a diverse espressioni artistiche, come l'imponente impatto dei Rotatemporis, Medieval Folk Band e dei Nemesis. Alle 22, sempre in Piazza Olmo, è prevista la rappresentazione degli Cerv, ossia l'Uomo Cervo, la maschera zoomorfa di Castelnuovo Volturno, rappresentata tradizionalmente nell'ultima domenica di Carnevale ai piedi delle Mainarde. Eccezionalmente dunque, Gli Cervo sarà rappresentato in estate a Bagnoli del Trigno, martedì 18 agosto. Tra i vicoli di Santa Caterina si esibirà la compagnia teatrale Cast. Gli alberi sonori e la loro ricerca musicale, che partendo dal Molise si ramifica in tutto il sud, animeranno il belvedere. Nella chiesa di Santa Caterina, splendido scrigno tutto da scoprire, la proposta musicale è quella dei 14 strings. In via Cunicella, il set del gruppo folk degli Zig Zaghini, forte di oltre mezzo secolo di storia e con all'attivo milioni di chilometri percorsi, per raggiungere gli italiani amanti del folclore in tutto il mondo. Nella zona denominata Orologio si esibiranno invece i Tre Etnica, band di grande successo che unisce elementi e strumenti della tradizione ad una vena di ricerca e contaminazione. Sempre con grande ritmo, la band è stata recentemente premiata, proprio lo scorso 13 di agosto, nella 26esima edizione del Festival della Canzone Dialettale di Gambatese. A Castel Bottaccio è andata in scena la decima edizione di Un giorno di vino. Tante persone hanno potuto assistere allo show cooking. Gli chef hanno cucinato e dato consigli alle persone del pubblico. Ce ne parla in questo servizio Vittorio Vitolone. Grande successo a Castel Bottaccio per l'evento denominato Un giorno di vino, giunto alla decima edizione, organizzato dal circolo neoluminista Donno Limpia Frangipane. Una giornata dinamica all'insegna delle degustazioni non convenzionali, con l'interazione del pubblico con i sommelier e gli chef presenti, alla scoperta del rapporto che i vini e i prodotti tipici hanno con i cinque sensi, con un leitmotiv a farla da padrone, il connubio forte e indissolubile tra la gastronomia e l'enologia. La dottoressa Carmela Corso, organizzatrice di Un giorno di vino, ci ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a proporre un evento di questo tipo a Castel Bottaccio. Quando sono tornata in ferie a Castel Bottaccio, in seguito alla Costituzione dell'Associazione del Circolo Donno Limpia, ho pensato facciamo una cantina aperta anche a Castel Bottaccio, non conoscendo le aziende del Molise, per cui ho avviato la ricerca su internet, ho contattato le aziende, ho coinvolto gli abitanti di Castel Bottaccio e da lì è nata questa idea. Il sindaco di Castel Bottaccio ha parlato alle nostre telecamere delle novità che ci sono state rispetto alle passate edizioni. Rispetto agli anni passati, quest'anno ho visto molti giovani, giovanissimi anzi, che si sono prestati ad organizzare l'allestimento di tutto il percorso. Cosa che l'anno scorso anche c'era stata un'iniziativa, ma era poco sviluppata da questi giovani. La Presidente dell'Associazione Donno Limpia Frangipane, Maria Francesca Delisio, ci ha parlato del ruolo fondamentale che riveste la territorialità per la manifestazione. La cosa più importante, naturalmente, è la cultura, la cultura del territorio, intesa non solo come intellettuali e tutto quanto, però anche il modo di essere di Castel Bottaccio, come si è sviluppato questo paese e soprattutto l'incidenza che ha avuto il territorio sul nostro modo di vita. Spettacolare e coinvolgente lo show cooking interattivo prodotto allo chef Maurizio Santilli, che ha coinvolto direttamente il pubblico, facendo cucinare dei piatti gourmet direttamente ai partecipanti, rispettando rigorosamente la territorialità degli ingredienti. Parliamo ora di poesia, perché a Frosolone c'è stato il Memorial Romeo Lesti, il premio è arrivato alla tredicesima edizione, il servizio è di Sergio Di Vincenzo. Ormai è diventato un appuntamento fisso dell'estate frosolonese. Il Memorial Romeo Lesti, alla sua tredicesima edizione, di anno in anno fa registrare un numero sempre maggiore di partecipanti. Alcune poesie in gara sono arrivate anche dall'estero. Concorso a parte, questo evento è stato organizzato per ricordare le grandi passioni e l'impegno sociale del medico scomparso prematuramente. Proprio nel suo ricordo, l'associazione Amici di Romeo sta realizzando progetti importanti in Africa. Volevamo continuare quello che lui aveva iniziato, cioè la rassegna di poesie. Da lì è nata la voglia di fare qualcosa per il terzo mondo, per gli altri, perché lui amava andare in Africa per curare i più poveri. E quindi, dopo tanti anni, siamo riusciti a fare un dispensario in Camerun, nella diocesi di Manfe, dove è ancora tuttora un nostro parroco, Don Antonio Mascia, e quindi abbiamo continuato negli anni questa rassegna di poesia che sempre più si è affermata qui a Frosolone. Ospite della serata, il giovane promettente cantautore napoletano Antonio Prestieri, in arte maldestro. Per me è un onore stare qua, insomma, in un concorso di poesia, perché credo che la poesia sia una forma d'arte così forte, i poeti sono riusciti a spostare i fiumi con le parole, quindi credo che la cultura, attraverso la poesia, possa realmente salvare gli uomini e ridarci la bellezza che ci manca nell'ultimo periodo. Cantante rivelazione del 2013 con il brano sopra il tetto del comune, ossia la storia di un operaio licenziato, maldestro trova proprio nelle tematiche sociali e nella gente comune le sue principali fonti di ispirazione. Mi ispiro a quello che c'è intorno, insomma, alla bellezza e alla bruttezza che mi arriva addosso, sono quelle le mie fonti di ispirazione, sono gli uomini fondamentalmente, le storie degli uomini, gli occhi degli uomini, quindi la vita vera che scorre per le strade. E oggi, come da tradizione, si festeggia San Rocco in diversi comuni della regione, tra questi proprio Frosolone, dove il Comitato Feste Religiosi ha organizzato per la serata il concerto di Pizzica e Taranta con i Salentini, i Scianari, la processione nella mattinata con il concerto della banda. È tutto per questa edizione di quest'oggi, senza giornali, ripetiamo per via della concomitanza con il Ferragosto. Grazie per averci seguito. Appuntamento al Telegiornale delle 14. Grazie per averci seguito. 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 Grazie per averci seguito.